La, 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 la... Due sportivi, due ragazzi Per il calcio sono fatti Sono portiere, è attaccante Olli e Benji, due speranze Loro vogliono sfondare e campioni diventare, per poter così giocare nella squadra nazionale. Nella squadra nazionale, con il Salena tirando i rigori, con il Salena parando i rigori, sempre partite e allenamenti, stai nella classe dei due contengenti, ogni ricorre, ogni pallone, Beggi lo segue con attenzione, in questa sfida senza vincenti, fai dai ragazzi felici e contenti, con il Salena tirando i rigori, Beggi e Salena parando i rigori, sempre partite e allenamenti, stai nella classe dei due contengenti, ogni ricorre, ogni pallone, Beggi lo segue con attenzione, in questa sfida senza vincenti, fai dai ragazzi felici e contenti.